Di nuovo in onda sul digitale terrestre, nel frattempo abbiamo coperto con la diretta tv di Giorgia Bortolossi su Facebook. Per chi ci ha seguito anche su internet non sarà una sorpresa il fatto che si sia parlato dei prossimi servizi che abbiamo elaborato, che abbiamo preparato per questa puntata. Uno di questi è sui rischi concreti di controllare, verificare che cosa succeda sui nostri profili social, su internet durante la guida. Io ironizzando dico che potrebbe essere benissimo una causa della mia morte perché sono uno di quelli che sono sempre col cellulare anche mentre sono in bicicletta, addirittura vengo ripreso da amici e parenti affini durante queste mie scampagnate passeggiate. Andrei a vedere il servizio che abbiamo preparato sulla questione e dopo lo discutiamo con i nostri ospiti. La vediamo con lo smartphone, lo utilizza di frequente? Sì, è abbastanza di frequente, sì. Per quanto riguarda lo smartphone in auto come si comporta? Se arrivano dei messaggini, degli sms? No, non arrivano e ho il viva voce. Mentre in auto, se gli arriva un sms, un messaggio, una chiamata? Lo leggo in quanto è contro la legge, giustamente anche. Lo vedo dopo oppure mi fermo e controllo un momentino cosa c'è. Sarebbe il caso di non guardare. Tanto capita di rispondere? Dio capita, sì, sì, sì. Purtroppo però non si dovrebbe, insomma, ecco. Per quanto riguarda anche le app con navigatori, questi strumenti per trovare anche le vie e così ne fa uso? Dio capita, sì, sì. Di solito ho mappe o comunque, insomma, se c'è qualche conversazione in corso, magari, sì. Cerca, insomma, di essere rapido, cerca di rispondere? Sì, 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 sì. Utilizzate lo smartphone frequentemente? Sempre, sì. Per quanto riguarda l'auto, anche mentre è alla guida, insomma, butta un occhio? Solo con l'auricolare per telefonare. E lei utilizza il cellulare mentre è alla guida? Con il viva voce, solitamente. Fa in generale un uso molto frequente dello smartphone? Pure troppo, purtroppo, sia per lavoro, sia altro. Lei anche utilizza molto smartphone? Sì, sì, continuamente, direi. Anche alla guida? Ho il bluetooth, quindi non mi distraggo. Esiste ancora il bluetooth, adesso che ha detto questo ragazzo, questo uomo intervistato? No, a parte la battuta di spirito, ci si chiedeva dove arriveremo, Giorgio, no? Non era una previsione facile fare dieci anni fa, non si pensava che saremmo arrivati in questi termini, però dove si può arrivare, secondo te? Eh, che domanda, eh? Eh, certo, perché già prima provavo a dire appunto che era già difficile pensare, neanche scrivere certe cose dieci anni fa e lo sviluppo che avrebbero preso. Stiamo parlando di innovazione tecnologica fondamentalmente. Ci sono dei ragionamenti famosi da parte di scienziati, di futurologi, di tecnologi, tecnologi nel senso migliore del termine, che dicono chiaramente, noi abbiamo una percezione dell'innovazione di tipo lineare, cioè dopo uno, due, tre, quattro, per così dire, una diagonale. Mentre in realtà l'innovazione che sta, ci sta muovendo sotto, e stiamo parlando degli ultimi 60-70 anni, se parliamo di computer, stiamo parlando degli ultimi 40, se parliamo di personal computer, con i PC come li conosciamo, cioè di Steve Jobs, di Bill Gates, di Microsoft, Apple e così via. Se parliamo di rete, parliamo di web dall'89-90, se parliamo di chattare, parliamo di fine 90, parliamo dei blog, parliamo dei social dalla fine 2000, in realtà tutta questa è una curva non di tipo lineare, ma di tipo esponenziale. Quello che sta accadendo sotto nell'innovazione tecnologica, che riguarda ogni singolo ambiente in cui noi viviamo, in ogni singolo ambiente in cui la mente umana prova a progredire, a inventare, a scoprire nanotecnologie, mi vengono in mente rivoluzioni verdi, qualunque cosa, in campo medico ci sono cose eccezionali che stanno accadendo. Tutto questo è molto più veloce di quanto noi riusciamo a comprendere, perché ragioniamo con una progressione e non riusciamo a cogliere. Questo ci fa capire cosa, ad esempio, che già il 900 è durato quegli 70-80 anni, dalla prima guerra mondiale alla caduta del muro fondamentalmente. Gli anni che sono passati dal 90 a oggi, che sono 25 anni, diciamo così, sono stati un'accelerazione incredibile. Cioè fino a qualche giorno fa sono morte mandando delle mail delle persone nate a lume di candela. Chi nasceva a fine 800 è morto mandando una mail e ha visto una cosa che mille anni precedenti non avevano visto. Noi in 25 anni abbiamo visto una progressione di innovazione, diventata poi pratica quotidiana, sociale, innestata nei comportamenti umani, mandare una mail, ricevere un progetto, lavorare da remoto, lavorare… Sì, si è metabolizzato anche velocemente, nonostante tutto questo. Questa è una meravigliosa osservazione, non lo faccio per piageria, Nicola, no? Perché tutti quanti… Abbiamo la stima a sale, no? No, una volta dicevano che è impossibile che per le persone, si diceva prima, siano cognitivamente in grado di gestire tanti flussi paralleli. Poi già la televisione, anni 80-90, mentre uno parla, dietro ha uno schermo che trasmette un'altra immagine, sotto c'è un sottopancia dove girano le informazioni sui valori di borsa, comparo un messaggino in parte e la signora di 80 anni non ha problemi a gestire questo flusso cognitivo moltiplicato che gli sta arrivando completamente diversi, dove le parole erano pesanti ed erano pietre, si parlava poco, ma non soltanto in Friuli, nel mondo si parlava poco. A quanto pare noi, senza aver poi dovuto seguire… Nessuno ha imparato il computer con un manuale, nessuno ha imparato il cellulare leggendo il manuale, ma siamo diventati improvvisamente in grado di gestire flussi comunicativi complessi e questa è, scusami, la parte importante, che ora stanno diventando ciò che viene professionalmente richiesto in ogni settore lavorativo ed è ciò a cui la scuola, perché bisognerà arrivare a parlare di educazione, dovrebbe certamente tendere, non dico di insegnare lo strumento, ma a far riflettere su un mondo da cui quello strumento ci sarà per i prossimi millenni. Millenni, questa è la profezia di anni. Sottore, torniamo alla questione malattie. Prima l'abbiamo riuscita un po' velocemente, no? Avete barato tutti, è lì, perché io non vedo accendersi nulla, quindi secondo me avete tolto tutti tutto. No, adesso ti autorizzo, Giorgio, a controllare se hai ricevuto dei messaggi, anche non divulgare il contenuto, però puoi guardare, perché io orgogliosamente rivendico… Facciamo fare gli amici che è vicino al tuo cellulare. Sì, sì, li ha messi in sequenza, quindi questo è il mio. Controlliamo? Sì, è apparecchio. Ecco, ecco, vediamo se si può inquadrare il cellulare di Angeli senza far capire chi è che gli scrive. Anche se si capisce, insomma, questi grandi segreti. Non si vede bene, vediamo. È pieno di messaggi. Ecco, vedi? È discevuti. Vedi? Ecco. Angeli, tu sei un animale sociale. Eh, vedi, io con i social mi do un sacco da fare, no? Con Whatsapp soprattutto. Io abbandono la diretta web e continuiamo la discussione, poi andiamo proprio a parlare di futuro su un articolo interessante del Sole 24 Ore. Volevo solo sapere dal dottore, ok, che non sono definibili come patologie, dipendenze, c'è un po' di difficoltà scientifica o poca, diciamo, poca giurisprudenza in questo caso, dal punto di vista scientifico. Però da dove si dovrebbe partire per limitare un po' tutto questo, per cercare di capire se ha senso limitarlo, dottore? No, abbiamo visto che si inquadrano dei fenomeni più che definire patologie, più che altro per il momento, no? No, si può parlare anche di patologie. C'è il problema di riuscire a collocare queste patologie, questo tipo di patologie, di riuscire a trovare i criteri per diagnosticare questo tipo di patologie. Però si può parlare di patologie. Da dove si può partire? Penso che come per altri, anche per l'uso, non so, penso a sostanze volutuarie, all'alcol, al tabacco, per la guida, per eccetera. Il metodo dovrebbe essere lo stesso, no? Sempre lo stesso, cioè un metodo educativo, un metodo di consapevolezza, un metodo di informazione innanzitutto è quella la strada da battere, perché non possiamo fare la guerra, non possiamo fare come Don Quixote che va contro i mulini a vento, cioè questi sono una realtà e saranno sempre di più questi strumenti una realtà. L'importante è che ci educhiamo noi, innanzitutto perché in fin dei conti siamo noi in primis che trasmettiamo i modelli anche di comportamento ai ragazzi, agli adolescenti, non ne medichiamo che il primo cellulare in genere è il genitore che lo regala quando il figlio inizia ad avere gli ultimi anni dell'elementare, i primi anni della scuola media. Lei ha figli in quell'età? No, no, no. No, ok, ok. Quindi il primo approccio deve essere necessariamente quello educativo, deve passare all'interno della famiglia, il primo agente educativo, poi all'interno della scuola e degli altri agenti, diciamo così, che fanno, che possono educare, che possono formare e deve passare poi, questo è un altro elemento molto importante, all'interno dei gruppi di pari, perché è lì che è più efficace un messaggio. Tuo figlio Jacopo invece a quanti anni avrà il suo primo cellulare? Ah, il suo non lo so, credo che l'osservazione del premio tra la quinta elementare e la prima media, a quanto pare... Stia diventando quello? Sì, sì, è sicuramente confermato. Anticipa di tre anni il motorino, no? Cioè che era il premio a 14 anni. No, ma del motorino credo che non ci sia più questo gran mito da vivere dello scooter, forse quelli a velocità, lebrezza, Valentino Rossi, lì mi devi raccontare tu in particolare dello scooter, però avere il cellulare... La mia Vespa è dal massimo a 70, quindi non sono... La mia Vespa va a 90. Va a 90. Vado in giro in bicicletta per la città, ma sono connesso con tutto il mondo, con tutti i miei amici contemporaneamente. Prima si citava giustamente la statistica secondo cui gli 11-13 anni, quindi hanno appunto avuto il cellulare in prima media, non mettono Facebook, non esiste proprio, non potrebbero nemmeno, secondo Facebook, iscriversi avendo meno di 13 anni, però le due cose importanti dei comportamenti mediatici dei nuovi media dei pre-adolescenti o primissimi adolescenti 11-13 sono fondamentalmente Whatsapp e Instagram, ovvero... Sì, che è molto più popolare che Facebook, fra gli under 14, no? Assolutamente, Facebook ormai è una... È per noi! È per noi! È decisamente, è decisamente da vecchi Facebook. Ci sono delle fasce d'età ormai satura, nel senso che tutti, 25-40 sono su Facebook, magari non usano l'account, ma sono iscritti. Queste cose si vengono a sapere quando per professione si fa, di esempio, social media marketing, oppure si fanno le profilature... Selezionatore anche del personale, va molto, no? Ah, certo, certo. Fare advertising, alcune pagine Facebook, ti imbatti strumenti che ti mostrano dietro le quinte come funziona quella, dal punto di vista demografico, la rappresentazione delle fasce d'età dentro il social network. La fascia di maggior crescita negli ultimi due anni è quella over 60, erano quelli che mancavano della grande ondata, che piano piano sono arrivati e hanno scoperto in Facebook forse quello che cercavano, cioè una piazzetta in cui poter parlare, commentare i quotidiani, inorridirsi o scagliarsi contro i fenomeni. Quello degli adolescenti va sicuramente osservato, il fenomeno, dicevo, Whatsapp, per tessere le reti relazionali che sono importantissimi, perché è l'età del gruppo dei pari, dell'allontanamento della famiglia come figure che impersonano i valori, che si vanno invece a cercare appunto negli idoli giovanili oppure nelle figure vicine, amicali, di maggior prestigio, in qualche modo secondo quali valori sarebbe da valutare. Sì, da capire un po'. E Instagram perché è una cultura visiva, dell'immagine, anche lì apparentemente selvaggia, questa è la nomofobia, in realtà molto codificata, in quanto lo stile iconografico, il tipo di selfie, il tipo di rappresentazione del paesaggio, il tipo di colori, il fatto che tutti quanti passino per i filtri di Instagram per pubblicare le foto... No filter, certo, che credo che sia falso nel 90% delle volte. Quindi costruiscono un ambiente di vita, un ecosistema dentro cui loro, come esseri viventi, trovano nutrimento e luoghi di esplorazione, di riproduzione da lì a qualche anno, spero, in cui maturano una visione di se stessi, una percezione di sé. Questo, secondo me, a noi oggi non è... per noi non è indagabile, come spesso accade nei fenomeni giovanili. Non comprendiamo bene gli assi dei valori secondo cui loro orientano ciò che ha significato e ciò che non lo ha per le loro vite. Certo, non parliamo di oggi, però sempre spulciando sul web abbiamo trovato un interessante articolo dove si parla di futuro, di quella che può essere una proiezione futura di questo mondo, vero Giorgia? Andiamo su Sole 24 Ore, quindi stiamo parlando comunque di qualcosa di serio. Il futurologo di Google, i nostri figli saranno uomini macchina. Allora, chi è che parla? Parla il signor Kurzweil, che è considerato uno dei più grandi inventori e scienziati informatici viventi. È direttore del settore generalistico di Google ed ha una fama di acutissimo futurologo. Pensate che delle sue 147 previsioni fatte dagli anni 90 ad oggi, ben l'86% si sono rivelate esatte. Quindi questo signore prevede il futuro e ci prende spessissimo. E che cosa dice questo signore? Si dice che è un'accurata agenda della singolarità tecnologica, ovvero il punto in cui il progresso tecnologico accelera oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani. La singolarità può riferirsi all'avvento di un'intelligenza superiore a quella umana e ai progressi tecnologici che a cascata ne seguirebbero. Praticamente ci sarà la superiorità della tecnologia sull'uomo, questo succederà, e la fusione in qualche modo della mente umana con la mente tecnologica, questo succederà, secondo il guru americano, nel 2045. Quindi tra 28 anni l'intelligenza degli esseri umani verrà moltiplicata miliardi di volte rispetto alle originarie potenzialità biologiche attraverso la fusione con l'intelligenza artificiale creata dall'uomo stesso. Praticamente tutti noi avremo dei computer dentro di noi, questo succederà e diventeremo degli uomini macchina. Insomma, non lo so se ci ha preso anche questa volta. Il nostro corpo, la definisce anche nello specifico, sarà percorso da microscopici nanorobot che nuotando nelle arterie saranno in grado di mantenerci in perfetta efficienza segnalando ogni possibile problema di salute in tempo reale al nostro medico nei casi più gravi alle strutture di pronto soccorso. Stiamo arrivando, io credo che insomma nel 2045 potremmo essere vivi tutti, no? Sì, speriamo, dai, ce lo auguro. Esatto, ricordatevi questa profezia tra 28 anni e vediamo se ci avrà preso, se diventeremo di fatto delle macchine. Dottore, dopo i suoi colleghi all'università o quelli che vorranno diventarlo dovranno studiare anche questo, a sto punto, no? Non solo più medicina ma anche un po' di tecnologia. Sì, ma quello che è interessante è che a seguito di questo camminare estremamente veloce ormai della tecnologia, ci sono delle modificazioni anche neurobiologiche, cioè anche il nostro cervello un po' alla volta sta cambiando. Io adesso non so minimamente pronunciarmi sulla profezia. Sì, sì, quella è una visione, diciamo, che dopo vedremo se sarà concreta. Però si muove in questa direzione. Iannis. Kurzweil è un super personaggio perché dagli anni 70 almeno racconta, proietta immaginazione in avanti ed è vero, ci ha preso molte volte. Ci ha pigliato tante volte, no? Sì, sicuramente. Il suo ragionamento parla di secoli, però. Lui identifica dei momenti di singolarità, cioè in cui uno sviluppo fondamentale, cosa fondamentale è smettere di dividere l'umanità in umanistica e scientifica, no? Come facciamo in Italia o comunque sempre nel mondo, nella dicotomia classica. Ci sono riferimenti storici per fare questa cosa, li abbiamo fatti anche troppo. Perché in realtà la specie umana è una scimmia tecnologica, noi diventiamo animali che sono in grado di sopravvivere modificando l'ambiente, quindi senza aspettare che arrivino delle forme di selezione naturale, mutazioni genetiche per permetterci a uno di noi, non a tutti, di superare una difficoltà ambientale che si è presentata. Noi attivamente modifichiamo l'ambiente e questo lo facciamo con la tecnologia. Ci inventiamo gli strumenti, oggetti tecnologici. Se voi avete presente quando, tu che sei un cinefilo, quando Kubrick in 2001 dissea nello spazio, come si chiama, c'è la baruffa degli scimmioni all'inizio e uno scopre che un osso può diventare un bastone, in qualche modo, e quello è un atto cognitivo fondamentale perché viene rinominato quell'oggetto, la sua funzione d'uso viene, quindi diventa un altro oggetto, non è più un osso, è un bastone. Dopo aver vinto una battaglia, una guerra di bande, gettando l'osso nell'aria parte il waltzer di Kubrick e quello stesso osso che è roteando nell'aria diventa un'astronave. Quello è chiaro, quell'osso che è un bastone è quell'astronave, quella è tecnologia, è quello che ci permette di padroneggiare l'ambiente, di vincere in quel caso una risorsa come poteva essere una pozza d'acqua o di conquistare lo spazio. Questa cosa qua, Kurzweil, la individua nel corso dei secoli, momenti in cui storicamente il progredire contemporaneo, ma da non considerare come separato, di consapevolezza di nostro essere umani e della nostra storia tecnologica, si intersecano e avvengono dei cambiamenti forti del paradigma culturale in cui noi viviamo. Per rimanere in termini di informazione, scolpire le lettere su una pietra, dal pittogrammi passare agli alfabeti fonetici, inventare la stampa o il papiro, i supporti con cui veicolare l'informazione, arrivare alla carta, Fabriano del 1200, arrivare alla stampa con Guterbeck, finalmente stampare i quotidiani molto più avanti, robe simili, fino ad arrivare al secolo elettrico del 900 e fino ad arrivare a quello elettronico avanzato. Alla puntata di stasera. Cioè è la summa. Ci arroghiamo il merito di aver sintetizzato tutto. Prendendo la rincorsa in questo modo, Kurzweil non è che gli viene facile, ma gli è possibile proiettare alcuni ragionamenti. Noi siamo ancora legati per accedere all'informazione a cose vecchie, hanno 50 anni, ma più schermi, mouse, tastiera. Ci sono molti film di fantascienza. Tutta questa evoluzione è rimasta indietro. Certamente, le interfacce sono molto indietro. I mouse che usano, quelli che giocano a videogame avanzati, sono molto più performanti, devono sparare più veloce, muoversi più veloci. Di questo, di questo affare qua, che è lo stesso da 20 anni almeno. Noi serve se lezionare le righe sopra Facebook per fare copia e incolla. Non è che ci serve tutta quanta questa Ferrari, basta la 500. E schermi, mouse, taschiere sono ancora la 500, inventate negli anni 60. Negli anni 60 c'era un film che si chiamava Viaggio allucinante, che era tratto da un racconto di Asimov, peraltro, dove miniaturizzavano un sommergibile e lo mandavano dentro le arterie del corpo umano per realizzare. L'avessimo saputo. I sogni dell'umanità. Dovremmo assumere come autore, così avremmo avuto anche questo frame. Credo che siano sempre quelli i sogni dell'umanità. Il modo con cui la tecnologia permette di realizzarli e di sognare, di abilitare sogni più profondi, più ampi, quello cambia per ogni generazione, certo. Adesso mi hai detto l'ispirazione e sogno, un po' un finale marzulliano volevo sviluppare, Giorgia. Però mi stai guardando così, quindi evito. Ti chiedo solo, sì, vai pure. No, vai tu, guarda. No, ti chiedo solo se avevamo trattato tutto in maniera esaustiva, se sei contenta di questa puntata. Ah, addirittura devo approvare. Io ho ancora solo una domanda veloce per il dottore. Allora, intanto come si cura la dipendenza, cioè nelle persone in cui chiaramente è una patologia, e chi, cioè se ci sono delle persone che ci ascoltano, che hanno dei dubbi di soffrire di questo, insomma, a chi si possono rivolgere, o, insomma, se può consigliargli la E che tipo di passi fare, insomma. O magari spesso se hanno un familiare che vedono un po' dipendente, no? Perché spesso sono le persone che ci stanno attorno che capiscono il problema. Beh, noi ci occupiamo di queste dipendenze, di dipendenze comportamentali in genere, e quindi anche di queste dipendenze da tecnologia, da internet e così via. Quindi possono benissimo rivolgersi al Dipartimento di Dipendenza e dell'azienda sanitaria. Quello che è importante è che per intraprendere un percorso, un percorso chiamiamolo di cura, deve volerlo innanzitutto al diretto interessato, perché se no non si può fare niente. Quindi in qualche modo, al di là dei familiari, degli amici, eccetera, che possono rivolgersi a noi, è importante che ci sia un po' di consapevolezza anche nella persona che presenta il problema. Dopodiché, quando arriva da noi, poi si inizia in genere una valutazione, si cerca di capire se c'è il problema, che tipo di problema, se ci sono altri problemi sotto, ricordiamo, almeno dai dati che si vede in letteratura, che in circa metà dei casi di queste situazioni di dipendenza, da tecnologie, abbiamo altri quadri psicopatologici importanti, dal fatto che coesistono altre dipendenze da sostanza, altre dipendenze comportamentali, a disturbi dell'umore, al disturbo del controllo degli impulsi. E quindi è necessario, come dire, fare un inquadramento complessivo, dopodiché si inizia un percorso che in genere è un percorso psicoterapico, individuale, oppure... Forse è anche più difficile, perché nel senso, se sei dipendente da una sostanza, nel senso, arrivi al punto di eliminare la sostanza. È difficile però eliminare un telefono, no? Cioè, nel senso, la tentazione a ricadere è un pochino più a portata di mano, o è una lettura troppo semplice? No, è una lettura... Uno degli elementi che caratterizzano la dipendenza da sostanza e caratterizzano anche questa dipendenza, è quello che noi chiamiamo il craving, cioè il desiderio irresistibile, incontrollabile, di assumere una sostanza, di agire un comportamento. E questo desiderio viene evocato molto spesso da degli stimoli. Gli stimoli possono essere, ad esempio, nel caso di una sostanza, il vedere una sostanza, il vedere una bottiglia di vino, il sentire l'odore del fumo e così via. Nel caso di una dipendenza, diciamo così, non so, da tecnologica, può essere il cellulare, può essere il suono dello smartphone e così via. È chiaro che tanto maggiore quantitativamente all'esposizione, agli stimoli o al rischio di esporsi agli stimoli, di tanto maggiore, è il rischio che si ripresenti il desiderio. Però, fatta questa puntualizzazione di fondo, poi la difficoltà a smettere l'uso della sostanza, o meglio, a concludere, a scegliere, a riuscire a concludere l'uso della sostanza, diventa analogo a quello di concludere l'uso, in un certo modo, del mezzo tecnologico. Ok. Siamo arrivati alla fine? Siamo arrivati alla fine. Abbiamo, credo, trattato in maniera esostiva tutto quanto. Non lo so se abbiamo fatto chiarezza o comunque abbiamo dato qualche senso di prospettiva a delle letture interessanti di quella che è questa grande tematica, che non si esaurisce certo con la nostra puntata. Ci hanno dato una mano Giorgio Iannis, grazie Giorgio. Grazie a voi. E il dottore Enrico Moratti, grazie dottore. Grazie, buonasera. Grazie Giorgia. Grazie Nicola, ci vediamo mercoledì prossimo. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente sia su Digitale Terrestre che su Facebook. Ciao a tutti. Grazie a tutti.